Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di CosaI, A-S-M-A. Buona domenica a tutti, 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 buona, buona domenica e buon compleanno a me perché oggi è il 21 aprile, è il mio compleanno, buona domenica. Quindi se vuoi lasciarmi un augurio puoi farlo sotto questo video oppure se vuoi lasciarmi un commento random va benissimo anche un commento random, nessun problema. Siamo oggi tornati con una nuova puntata di Unpacking, yeah, che bello, è il nostro momento di relax domenicale della penichella dopo pranzo e anche della sera perché c'è anche giustamente chi preferisce vederlo di sera. Allora riprendiamo, vediamo, non mi ricordo più che anno era questo, 2013 mi sembra, se non sbaglio c'è scritto qua, album gennaio 2013, ok. Ok, allora abbiamo questa nuova casa, wow quante stanze finalmente, in realtà lui ci consiglia di iniziare dal salotto ma in realtà noi potremmo iniziare da ciò che preferiamo. Andiamo a vedere un attimo come sono le stanze, ne faremo magari due in questa puntata, tre nella prossima, vediamo in base a quanti scatoloni questo soggiorno ha molti scatoloni, vedo anche grandi. Poi il bagno ha ben tre scatoloni, accidenti, la vasca da bagno non più, e non più la doccia, mi troverei meglio con la doccia. Poi la camera da letto ha un bel po' di scatoloni grandi, abbiamo un grande armadio vuoto con questa cassettiera che tra l'altro ce l'ho anche io, però di ogni cassetta ha un colore diverso. Non ci credo, mi sento, mi posso immedesimare. E poi abbiamo una cucina molto shabby chic, devo dire, guarda è shabby chic, un po' rovinata anche però, non ho vinto rovinato mi sa, e abbiamo un sacco di scatoloni in cucina, faremo la prossima volta. E' uno studio, sembra uno studio, quindi, ma scopriremo cose nuove della protagonista. E' di nuovo, ha trovato di nuovo un compagno, è andato a vivere da sola, con chi è, con chi non è, probabilmente, probabilmente siamo andati da sole, però vediamo. Ok, abbiamo sempre le nostre statuette dei nostri viaggi da quando eravamo piccine. Quindi, abbiamo sempre i nostri libri, adesso intanto li metto qua. Dopo sai che possiamo sempre cambiare... Oh, vedo che c'è una nuova, un nuovo souvenir, vedo. Interessante. Tre libri. Sai cosa? Non mi piace che stiano fuori e non... Eh, questa cosa mi triggera. Eh, vabbè, facciamoglianne una ragione. E questo scatolone è andato, non c'era tanta roba. C'erano dei libri pesanti. Oh no, si ricomincia con sta cosa lì. Scusa, ma qua si può mettere? Ah, ok. Eh, dipende da quanti sono questi controller. Sempre i soliti due. È il telecomando della Nintendo Wii? O è il telecomando del climatizzatore? Non lo so. Ah, mi sa che è la Nintendo Wii. Non so se ci sta qua, vediamo. Perfetto. Perfetto. Eh, questi sono film, giochi, libri. Non so. Vediamo quanti sono in base a quello. Decidiamo dove metterli. Se ci stanno tutti qua, bene. Ahiaiai. Sì, ci stanno. Bene. Il nostro polzino, il nostro polzino preferito. Però adesso con il suo siderino lo mettiamo qua. Benissimo. Benissimo. Poi, il solito dato che abbiamo sempre avuto. Tanto lo metto qua, dopo cambieremo le action figure. Tanto lo mettere qua sotto. i nostri album da disegno, la saga che c'è sempre. Questo mi sa che è un videogioco. Io non so quanti ne abbiamo. O è un film? Sai che cercavo l'altra volta di capire se è un film o un videogioco, secondo me è un film. Ma perché dal retro sembra quasi che ci sia una trama, no? La trama. Invece qua sembra più una cosa tipo... Diverso da videogioco. Non so. Però non sono sicuro di questa mia idea. Vedi che non sembra tipo una trama di un film con i personaggi, no? Anche se... Forse la confessione dipende dalla console. Per le confezioni sono più grandi dei film. Però non lo so. Comunque, vabbè. Ah, voglio aprire questo scottone gigante. Vediamo cosa c'è. Il nostro album, ovviamente, del gioco. Mettiamo qua. Un... Una specie di cestino vaso. Perché potrebbe contenere anche, non lo so... I... I ombrelli, per esempio. Però è tipo invimidi, quindi boh, ci si potrebbe mettere... Ma per i fori che ha quelle tipo maniglie, non lo vedrei bene come un vaso portapiante. Non lo vedrei tipo un portaombrelli. Non lo so, tu cosa ne pensi? Non lo so, infatti in base a... Perché gli ombrelli, Mari, li metti dall'entrata, no? Io... Ombrelli lo tengo fuori dalla casa, sul piano erottolo. Appunto, però, per invimini gli ombrelli bagnati non sono il massimo. Poi vediamo che altri oggetti... Non so se andrà... Andrebbe in qualche altra stanza, questo. Fammelo sapere nei commenti, grazie mille. Eh, però c'è un ombrello, effettivamente. Eh. E c'è anche un bastone. Un bastone. Ma non è detto che questi... Questi oggetti vadano tutti... Ah, scusami, non l'ho visto. Questo tavolino. Tutti in questa stanza, eh. E infatti questo va in camera, di solito. Lo schiavo qua perché è troppo bello. Tanto poi, alla fine del gioco, se non gli fa bene qualcosa, dobbiamo spostarlo. Vabbè, a parte che si potrebbe fare anche un ripiano qua. Eh. Visto che c'è il nostro pulzino. Il nostro pulzino, eh. Eccola, con i suoi fratelli. È nuovo questo. Oddio, c'è l'uovo. Che carino. Questo patto è anche il pulzino nero di bellezza. È quello con le chiappette. C'è anche l'ovetto. Che bello. Mamma mia, mi piace tanto. Questo con le chiappette così, top. Ah, che belli sono. Sono fantastici. Ok. Mi viene quasi voglia di cercarli e comprarli. Perché li vorrei anche io. Questo è un film horror. Non lo so. Non c'è più quello di Tony Darko. Ho un videoregistratore, questo. un lettore dvd. Allora. Qui ci sta. Sì. Ci sta girato. Vediamo. Perfetto. Perfetto. Aspetta, dobbiamo vedere il retro. Com'è? Facci vedere il retro. Film o videogioco? Mettiamolo tra i film, intanto. Questo film o videogioco? Videogioco. Non ci stanno, quindi diventa automaticamente film. Accidenti, non ce ne stanno più. Li mettiamo di là. Ok. Perfetto. Poi. Ok, cos'è questo? Non lo so, quindi lo metto qua. Allora, questo abbiamo capito cos'è. Non c'è bisogno che commenti. Bisogna che commenti per questo. A meno che dopo non lo capisca. In qualche maniera. Sembra una specie di cassa. O una borsa. Non lo so. Non ne ho idea. Le cose che non so dove metterle le metto. Le ripiano sotto. Oh, mega libro. Fantasy. Le libri fantasy. Le libri fantasy. Non ce ne stanno più. Allora, là, il punto di disegno lo mettiamo sotto. Là, noi siamo rimasti amanti dei... delle console. Ce le siamo portate dietro tutte. Qui ci sono i giochi... della PlayStation, della PSP. Intanto li mettiamo qua. Poi vedremo, perché qua abbiamo finito lo spazio. Ok. Poi. Ultimo scatolone. ha una decorazione. Io ho una maglia con questo disegno. Lo chiamo qua, intanto. Sapevo anche come si chiamava. Ma adesso non me lo ricordo, ovviamente. Ah, il nostro culele. Che schiafferemo qua sopra. Nel dimenticatoio, qua in alto. Tanto al gioco, se non dico a bene, non si può spostare. Questo porta uno strumento musicale che è il... Eccolo, lo sapevo. Grande. Finalmente lo possiamo appoggiare bene come si deve. perché è straiato oltre a occupare posto che comunque anche meno. E poi ara che è bruttino da vedere è appoggiato così orizzontalmente. Adesso sì, non so perché. Bello, mi piace. Ah, vedi? Abbiamo preso lezione di ukulele. Mettiamo qua. Si può mettere in pieno. Ok. Allora direi che sarebbe bello anche messo tipo così o qua a lato anche. Bello, carino. Ok, album. E questo è un... Ok. Ok, abbiamo finito. Vediamo se posso metterlo qui, questo. Come per dire lo sto ancora studiando. Lo lascio fuori dalla scrivania perché lo sto ancora studiando. Volevo fare questa cosa, questa idea. Però non ci stiamo. Intanto lo mettiamo qua sotto. Adesso vediamo un po' cosa andiamo a scegliere tra... Mamma mia, la cucina la facciamo la prossima volta. Farei questo studio, sai? Perché sono curiosa di vedere cosa c'è. Perché c'è una specie di frigo qua. No, non è un frigo. Mi sa che hanno... Però perché è fatto così. Sono curiosa di vedere cosa troviamo in questa stanza. E per capirci un po' meglio oppure farei il bagno perché con il bagno vediamo quanti asciugamani ci sono. in base a quello che abbiamo se è sola. Ma sai cosa ti dico? È il mio compleanno e quindi oggi facciamo tre stanze. Eh, mi sembra che scusi. Quindi facciamo lo studio e il bagno. Perché non fra cucina ne ha tantissimi. Sempre se troviamo l'asciugamano, eh. Perché potremmo non trovarlo qui in questi scotoloni colpo di scena però vedo pochi... pochi appendini, ecco. Potrebbe essere tornata single. Ok, andiamo a vedere di cosa si occupa la nostra protagonista in questo studio. Allora, c'è il solito diploma che avevamo messo sotto il letto se qualcuno c'era rimasto male. La nostra lab giura. Il solito contenitore di documenti che non mi fa mettere come vorrei. Dopo... Eh, potremmo mettere anche qui dentro. Non me lo fa mettere lì perché c'è questo scotolone dopo lo... Gli cambiamo collocazione. Qui c'è più spazio per mettere i pennarelli però... Voglio vedere... Cosa... Cosa c'è. Ora qua, Bellissimi, bellissimi. Ha comprato anche i pastelli con i color pastello perché non c'erano, mi pare. Prima c'erano. Le cuffie. Allora, questi li mettiamo qua. I nostri... Che ce n'è uno di là effettivamente potremmo... Ce ne sono due di là potremmo andarli a prendere, sai? Questi blocchi da disegno. Potremmo metterli tutti insieme di qua. Eh sì, così diamo un ordine un po' più... con un senso. Anche questo libro magari lo mettiamo di qua. Oh no. Oh no, è troppo alta. Vabbè, non c'erano altri. Il portodocumenti occupava la maggior parte dello spazio. Non dirmi che adesso dipingiamo. Non dirmi che adesso dipingiamo. Ah, questo è proprio classico da ufficio. Quello... Quelle palline fa... Perché rallenta. Ok. Eh, questo è da... Allora, aspetta. Faremo così. potrebbero servirci subito ma potrebbero anche non servirci. Intanto li mettiamo qua. Perché questa cassettina mi piace da tenere qua. Perché... l'ho vista eh... nei video quelli eh... di organizzazione della scrivania tipo che hanno le ragazze più estetica e quindi lo voglio anche io. Questo è proprio da ufficio però più serio. Non c'entra molto con tutto quello che abbiamo messo adesso però tutto avrà un senso forse più tardi. Ah, ne abbiamo tanti. Che cestino. Guarda qua. Una... un figgettoio. Eh... un asciugamano. Ok. Andiamo in bagno. Potrebbe essere... Sì, solo qua. Perché... perché qua non ci sta. Perché qua c'è la gratta igienica. Ok. Finito. E il figgettoio è un gioco anti-stress. che brutta le piante grassi però non c'ho niente contro di loro però quelle che bungono non mi piacciono. Ecco. Paglia. Questo libro è un po' particolare dove lo mettiamo. mettiamo qua andato. Meno che non vada ma andasse proprio qui. Ok. Effettivamente è brava una libreria anche questa. Che? Che cos'è? Che carino. allora non ho idea di cosa sia però la cosa che mi fa pensare è che sarebbe figo che fosse uno di quei distributori tipo umidificatori quelli che attacchi e ci mette l'acqua un'essenza profumata e fanno uscire magari il fumetto da qua. Il fumo è tipo acqua vaporizzata con una profumazione e sarebbe figo uscire dal buco qua della balena però mi sono fatta io un gran viaggio mentale che in realtà non ho idea di cosa sia anche perché ne abbiamo due quindi mi sa che non è quella vabbè anche questo non saranno mica pantofole no come fanno ad essere pantofole anche qua mi devi aiutare creatura cosa sono queste balene perché stanno in coppia perché ce ne abbiamo due bella a mettere in camera però questa camera da letto vediamo tipo non si vede perché c'è lui aspetta ecco bella peccato non si possa interagire con gli oggetti non si possa accendere la lampa la lampa una stampante ok bella grande bella grossa è una tavoletta grafica più grossa o un computer cos'è non so la mettiamo qua bella bella questo scatolone questa scatola con tutti un cestino più che scatola perché non è coperchio con tutti i file i cavi la mettiamo qua dentro appena riesco ad aprirlo questo è questo è una risma di fogli ok è molto accurato questo gioco c'è anche questo dettaglio perché c'è la stampante la risma credo sia un biglietto da visita un calendario c'è un gatto oddio ah wifi questo è wifi secondo me questo non so mica se va da qua sai perché sembra che occupi troppo spazio noto che ci piace il lilla con questo orologio da parete lilla è carinissimo estetico il computer portatile eccocello qua questo qua quello vecchio lo mettiamo qua la tavoletta lo mettiamo qua è quella vecchia libri libri oh finalmente troppo coscio ma perché ecco è portapenne la solita gomma ho schiaffo dove c'è spazio aspetta eh non mi fa riempire i cassetti oh dei disegni il nostro maialino è diventato un fumetto ok qua trombosi non so sembra una persona solitaria non lo so cosa c'è che bugia vediamo gli sparsi qua non ti non ti vanno a mettere un ordine oh oh mi è morto qualcuno oh oh non lo so bello questo mamma mia questo lo vuole anche io in casa stupendo non lo so sembra una una persona diffunta gatti gattini aspetta perché mettiamo di qua qualcosa ok questo è meraviglioso questo corvo con questi colori estetic bellissimo super fantastico vogliamo dargli un ordine no no io voglio spargere tutto così adesso ah ok allora dobbiamo mettere questo qua e questo qua finalmente me l'ha fatto anche girare come volevo questo non so cosa sia ma potrebbe servirci questo qui non ci sta quindi lo lasciamo qui però adesso lo lasciamo così top ecco e poi dopo si vedrà probabilmente questi quadri non vanno tutti in questa stanza però per adesso lo lasciamo così poi abbiamo detto che volevamo fare il bagno si ok benissimo asciugamano da da culo no scherzo no è vero non c'è l'asciugamano da sedere perché perché non c'è il bidet quindi sarà da viso allora e questo non lo so ma vabbè non lo so non chiedermi altro beh che non lo so abbiamo questi cassetti tutti vuoti e gli altri invece c'erano già altri oggetti e che si potevano spostare qua invece siamo proprio solo noi mi sa assorbenti sempre i fiammiferi che l'altra volta le ho fatte mettere in bagno tipo non so io li preferirei in cucina ecco tanto poi come al solito gioco se non gli va bene qualcosa non se ne sta zitto lo so io che io vorrei metterlo via ma lui di solito me lo fa mettere qua fuori e spazzolino aspetto di trovare il contenitore anche per questo eccolo qua è la solita tasta spiccata è sempre lei che ci accompagna in ogni in ogni situazione in ogni convivenza così allora qua si può metterlo più bella così io queste vorrei metterle via cioè sono brutti veramente bruttissimi da vedere così se a fine gioco ci farò cambiare ma gli assorbenti possiamo mettere qua questo questo è più sapone per le mani la carta genica per rotolone i trucchi altra carta genica la mettiamo qua che è a disposizione non mi piace quelli che la mettono lontana se resti senza sei fregato la bilancia ti può mettere sotto qua da qualche parte no la mettiamo qua intanto altri assorbenti no questi non ci sta allora li mettiamo qua sotto ok non mi fa mettere uno sopra l'altro mi piacerebbe tanto ma non me lo fa fare ecco con l'uttorio questi vanno qua il cestino per gli assorbenti mettiamo qua ok balsamo shampoo creme varie per il corpo bagno schiumi anche qua l'altro volta boh che cos'erano si sa lo mettiamo qua il boh deodorante chi può mai saperlo boh lo metto qua non so cosa siano queste vitamine D non so boh si potremmo mettere anche delle robe qua ma sto accumulando tutto qui forse ci andava forse ci andava questa qui e io sto accumulando ah questo di solito lo metto qua cerotti cerotti vanno qua sono sicura al 100% no non è vero taglio unghie le pinzette la spugna eccola qua sapevo è l'insetticida ora mettiamo qua l'avevamo messo nella mettiamo in cucina secondo me rischiamo eh di vedere vediamo ecco ve la rischio fine abbiamo già fatto le nostre tre stanze perché ormai siamo diventati bravissimi ad arredare c'è a piegare e dare a sistemone gli oggetti e quindi ci restano ci resta solo la cucina e la camera da letto e spero che questo video ti sia piaciuto ti abbia fatto rilassare soprattutto io come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura